Buongiorno a tutti, io sono Mariano Cadoni, docente di fisica teorica dell'Università di Cagliari e oggi vi parlerò di crisi nella fisica e cambiamenti epocali. Questo seminario fa parte di una serie di seminari dal nome di Crise Als Chance organizzato dall'Istituto per Traduttori e Interpreti dell'Università degli Studi di Heidelberg. Quindi in generale una crisi può evolvere in una instabilità sistemica, quindi un continuare a vinghiarsi dalla crisi su se stessa, oppure in modo virtuoso nella creazione di nuovi equilibri, quindi come opportunità. Un esempio di instabilità sistemica è quella della decadenza dell'impero romano, la fine del mondo antico, quando servirono due o trecento anni per la creazione del nuovo mondo, il mondo medioevalo. Questo schema è valido a livello sia di sistemi fisici, biologici, sociali, politici ed economici. Il tema tra l'altro è estremamente attuale, proprio perché attualmente stiamo vivendo due grosse crisi, l'epidemia di Covid e i cambiamenti climatici. Brevemente, questo è lo sviluppo del seminario, vedremo inizialmente la genesi delle crisi, quindi la descrizione delle crisi dal punto di vista di un fisico, avendo in particolare come riferimento la fisica dei sistemi complessi, il contributo del premio Nobel per la fisica del 21, Giorgio Parisi. Andremo poi, vi presenterò poi un po' di riflessioni sulla crisi della fisica classica, fine ottocento e inizio novecento. Vedremo poi come la crisi della fisica classica rappresenta un esempio virtuoso di un'evoluzione della crisi e per concludere andremo a gettare uno sguardo sul futuro, su queste due crisi che stiamo vivendo, l'epidemia di Covid e i cambiamenti climatici. Quindi nel seminario cercheremo quindi di rispondere a una serie di domande, come si genera ed evolve una crisi, quali condizioni devono verificarsi affinché una crisi diventi un motore di innovazione, poi cosa ci insegna la crisi della fisica classica e quali sono gli insegnamenti per il futuro. Quindi iniziamo con la genesi delle crisi, iniziamo quindi con un'affermazione abbastanza generale che poi spiegherò in dettaglio, che è la seguente. Tutti i sistemi complessi che sono relativamente isolati tendono a creare una situazione di equilibrio relativamente stabile. Quindi spieghiamo brevemente i termini di questa affermazione. Quindi è un sistema complesso, è un sistema che ha un grande numero di componenti, che è caratterizzato da disordine, disordine che può avere la forma di interazioni stoccastiche tra gli elementi oppure di sensibilità alle condizioni iniziali, caratterizzato anche da un comportamento non lineare, è molto importante anche da un numero molto grande di possibili configurazioni di equilibrio. Quindi questa è la definizione del sistema complesso. Cos'è un sistema isolato? Un sistema isolato si capisce anche intuitivamente il significato, però lo sto usando nell'accezione di un sistema chiuso, quindi isolato dal punto di vista informazionale. L'esempio migliore è quello di un organismo biologico la cui caratterizzazione, la cui informazione è stabile ed è caratterizzata dal suo codice genetico, dal suo DNA. Infine stabilità, per stabilità intendiamo non una semplice staticità ma una stabilità dinamica c'è la capacità di un sistema di assorbire, di metabolizzare delle perturbazioni, per esempio dei conflitti. Abbiamo tantissimi esempi di questi sistemi complessi, ve ne descrivo alcuni. quindi abbiamo gli ecosistemi, l'ecosistema è un esempio di un sistema complesso in cui varie specie biologiche convivono in un equilibrio dinamico, con la capacità appunto in genere di assorbire piccole variazioni, piccole perturbazioni. Abbiamo il clima, anche il clima è un esempio molto importante di sistema complesso in cui abbiamo un equilibrio tra vari componenti che partecipano appunto alla creazione di quello che si chiama il clima, il clima della terra e poi ci sono tantissimi altri esempi di sistemi complessi che sono i sistemi sociali, i sistemi politici, i sistemi fisici e chimici o economici. Ecco, una cosa importante, una notazione, un sistema complesso non necessariamente deve essere composto da un numero molto grande di elementi, perché la complessità può essere anche di natura relazionale. Se per esempio abbiamo un sistema costituito da due persone, di un rapporto per esempio di coppia, questo può diventare come ben sappiamo un sistema complesso. Come esempio prendiamo la teoria del matrimonio di Anna Karenina. Anna Karenina dice che tutti i matrimoni felici sono tutti uguali, mentre invece quelli infelici possono essere un numero, si possono rappresentare in tantissime forme. Ecco, questo è un esempio di un sistema complesso in cui i matrimoni reali, quindi il modo in in cui realmente può funzionare il matrimonio rappresentano tante possibili configurazioni di equilibrio di uno stesso sistema. Ecco, abbiamo visto una nozione di equilibrio, quindi come un sistema costare in equilibrio, adesso vediamo di capire come il sistema può uscire dall'equilibrio, cioè come si genera una crisi. Gli esempi di crisi di un sistema ce ne sono tantissimi, dal punto di vista della fisica e della chimica possiamo vedere una transizione di fase, cioè una transizione tra un solido e un liquido, il ghiaccio che si scioglie. Possiamo prendere la crisi dei sistemi geopolitici, la crisi degli imperi, abbiamo appena menzionato la crisi dell'impero romano, ma potremmo prendere in considerazione tantissimi altri esempi, la crisi dei sistemi sociali, ma anche a livello più basilare o più semplice la crisi relazionale, come dicevamo, o come le relazioni tra persone, crisi economiche e così via possibile. Abbiamo visto appunto che la possibile evoluzione di una crisi in generale, schematizzando a due possibili evoluzioni, quindi la creazione di un nuovo equilibrio, in cui il sistema si riorganizza in un equilibrio nuovo, oppure in una instabilità strutturale sistemica in cui appunto il sistema si avvinghia nella crisi senza riuscire a trovare una nuova fase di equilibrio. Quindi come avvertenza devo puntualizzare che in queste considerazioni sto generalizzando comportamenti dei sistemi fisici, quindi tutta una serie di nozioni e di risultati che abbiamo, che sono vere per sistemi fisici, a una classe molto generale di sistemi, che appunto sono sistemi biologici, sociali, eccetera. Ovviamente la validità di questa generalizzazione non è scontata, è il razionale che sta dietro questa generalizzazione, il fatto che la natura opera con pochi schemi, in inglese usiamo la parola pattern, universali, che appunto si ripetono a vari livelli e in vari contesti. ovviamente nei dettagli i sistemi di natura diversa possono comportarsi in modo diverso, quindi non è detto, anzi in genere non è detto che nei dettagli un sistema sociale, per esempio un gruppo sociale nelle sue dinamiche si comporti come, nei dettagli si comporti come un sistema fisico. Però insomma in questo seminario l'idea è cercare di strappolare e degenerizzare comportamenti, insomma, di trovare comportamenti generali in tutti i sistemi con cui abbiamo a che fare. Quindi quali sono i meccanismi alla base delle crisi? Possiamo individuarne due di questi meccanismi. Il primo è la presenza di perturbazioni grandi, cioè noi abbiamo detto che un sistema complesso è in grado di metabolizzare piccole perturbazioni. Ovviamente se abbiamo a che fare con perturbazioni grandi il sistema non è in grado di metabolizzarle. l'esempio diciamo più lampante di questo tipo di comportamento è l'estinzione dei dinosari nel Cretaceo. L'ecosistema di allora ovviamente non è riuscito a metabolizzare quella perturbazione grande che è l'impatto di un meteorite sulla terra. Questo portò appunto all'estinzione dei dinosari. l'altro meccanismo di base che porta alle crisi è la metastabilità che appunto vi spiegherò adesso in breve. Adesso diciamo questo concetto qua è una parte integrante dello studio dei sistemi disordinati per cui appunto è stato assegnato il primo Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Quindi cos'è la metastabilità? L'idea è molto semplice e l'idea è la seguente cioè tutti i sistemi disordinati e complessi in realtà appaiono stabili quindi appaiono in una situazione di equilibrio solo se li considera per tempi piccoli ma evolvono quindi cambiano se si considera su scale temporali più grande. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questi sistemi c'è la presenza, c'è presente sia una dinamica veloce che possiamo considerare appunto come delle perturbazioni e poi di una dinamica molto molto più lenta. Per farvi un esempio, un esempio molto lampante è quello dell'invecchiamento biologico degli organismi. Se voi andate a considerare un organismo su scala diciamo di una giornata o anche di una settimana o di un mese questo organismo non sempre invecchiare. Se lo consideriamo invece su scala di anni vediamo che l'organismo invecchia. La stessa cosa, o qualcosa di simile, la vedete per quanto riguarda la differenza tra clima e meteorologia. La meteorologia è quello che succede a livello del tempo atmosferico sulla scala di giorni. in clima è invece quello che succede sulla scala degli anni o dei decenni o anche delle centinaia di anni. E su questa, nell'evoluzione sulla scala di centinaia di anni non è evidentemente prevedibile da quello che succede invece sulla scala dei giorni. Ci sono tantissimi altri esempi di questo concetto di metastabilità. per esempio nei vetri, che sono appunto la tematica su cui ha lavorato più estesamente Giorgio Parisi, l'espansione dell'universo, eccetera. Ecco, la cosa importante è che la metastabilità è quasi sempre all'origine delle crisi. Perché? Perché abbiamo detto che un sistema complesso riesce a metabolizzare piccole perturbazioni, normalmente. Una volta che però voi fate evolvere questo sistema su scale lunghe, può succedere che una piccola perturbazione, quando la situazione, diciamo il sistema è cambiata abbastanza, che normalmente potrebbe essere metabolizzata, dal sistema ha invece un effetto dirompente. Sono anche qui, possiamo vedere tantissimi esempi, per esempio i casus belli, no? L'inizio delle guerre, un assassino politico che scatena una guerra mondiale. Oppure una piccola perturbazione nei mercati finanziari che porta al crollo del mercato azionario. Quindi in realtà l'origine della crisi non è la piccola perturbazione, ma la metastabilità, quindi il cambiamento su scala lenta del sistema e la perturbazione diventa soltanto il detonatore della crisi. Ecco, vediamo adesso di caratterizzare le crisi, di dire quali sono le peculiarità delle crisi, sempre dal punto di vista di un fisico. Beh, una prima peculiarità è la riorganizzazione del sistema. Cioè una volta che voi avete un sistema in crisi, quello che bisogna fare è cambiare radicalmente i parametri rilevanti che voi avete per descrivere il sistema. Cioè non potete più usare i vecchi, ma dovete individuarne dei nuovi parametri che vi danno la descrizione effettiva del sistema. L'altra caratteristica è che una crisi è sempre un fenomeno globale, cioè coinvolge tutte le scale e i livelli del sistema, sempre che qui se vogliamo avere come riferimento la crisi degli imperi, quando l'impero va in crisi, vanno in crisi non soltanto i livelli politici, la governance politica, ma vanno in crisi anche i livelli intermedi, vanno in crisi l'economia, vanno in crisi anche le strutture sociali come la famiglia, eccetera. Un'altra caratteristica importante è la presenza di numero estremamente grande di possibili nuovi equilibri. Cioè quando il sistema va in crisi, voi non è che avete soltanto una possibile uscita dalla crisi, ecco, tutte queste caratteristiche rendono spesso molto difficile riconoscere l'instaurarsi delle crisi. Questo perché appunto tipicamente si percepisce la dinamica relativa alla scala veloce, quella nel caso dei cambiamenti climatici della meteorologia, mentre non si percepisce la dinamica lenta, quella che invece porta effettivamente alla metastabilità del sistema, cioè porta veramente alla crisi. Altro problema è che si insiste a usare i vecchi parametri per descrivere il sistema quando in realtà il sistema è cambiato talmente tanto che questi vecchi parametri hanno perso la loro validità. Infine la globalità della crisi impedisce di vedere il fenomeno nella sua interezza e tipicamente uno si focalizza su un livello intermedio senza riuscire a vedere la crisi nella sua globalità. ecco, come esempio di questi concetti che vi ho appena esposto, andiamo a vedere e ad applicarli alla crisi della fisica classica che appunto avvenne tra i primi dell'Ottocento, scusate, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Quindi, prima di tutto, cos'è la fisica classica? La fisica classica, periodo di riferimento 600-800, descrive fenomeni e interazioni forze quindi di cui tipicamente possiamo avere un'esperienza sensoriale diretta che è la forza della gravitazione e di fenomeni elettromagnetici. sono quelli che fanno funzionare il vostro cellulare e il vostro computer. La fisica classica è stata costruita come applicazione più autentica del metodo scientifico sperimentale che è stato appunto formulato da Galileo Galilei nel Seicento. La fisica classica inoltre corrisponde alla visione del mondo e allo sviluppo tecnologico dell'Ottocento. Quindi dal punto di vista economico e tecnologico la prima e la seconda rivoluzione industriale quindi il fulcro nella meccanica, nelle macchine termiche, macchine a vapore, macchine a conduzione interna e l'elettrificazione. Questo sviluppo qua culmina il suo apogeo nel positivismo cioè quella visione del mondo che vede l'umanità supportata dalla scienza e la tecnologia provietata verso un radioso futuro, cioè un progresso senza limiti. La fisica classica si basa su una concezione del mondo deterministica e continua. Cosa vuol dire deterministica? Deterministica vuol dire che se voi conoscete appunto lo stato del mondo, dell'universo, di un sistema in un certo istante siete in grado di prevedere con certezza quello che succederà nel futuro. Inoltre la fisica classica è basata su concetti di spazio e tempo completamente assoluti quindi completamente indipendenti dalla materia che si muove in questo palcoscenico, cioè il spazio e il tempo vengono considerati come un palcoscenico immutabile in cui poi avvengono tutti i fenomeni della fisica. La metafora della fisica classica è quindi un universo che è costituito da un insieme di ingranaggi la cui dinamica è del tutto regolare e completamente prevedibile. Ecco, il cambio di paradigma rispetto a questa concezione avviene fine ottocento, primi del novecento all'opera di grandi fisici come Einstein, Planck, Bohr, Schrödinger, eccetera. E questa visione classica ottocentesca del mondo viene completamente scardinata da una serie di esperimenti e intuizioni teoriche. Come si conclude questa crisi? Questa crisi si conclude dopo un travaglio di quasi quattrocento anni che portano all'affermazione di tre tiri e fisiche che ancora oggi sono la base della comprensione di tutto il mondo fisico che sono la meccanica quantistica, la relatività ristretta e la relatività generale, che adesso vi descriverò a breve. Meccanica quantistica, quindi la meccanica quantistica descrive i fenomeni del micromondo, quindi atomi, fisica nucleare, particiele elementari, eccetera, e la triofisica che sta alla base, che è la base principale degli sviluppi tecnologici di punto di tutto il novecento. La meccanica quantistica vi dà una descrizione probabilistica, quindi non deterministica e discreta del mondo, in contrapposizione quindi alla fisica classica. Diciamo che l'esempio che si usa di più per descrivere questa cosa qua è l'esempio del gatto di Schrödinger. Quindi se voi avete un gatto in una scatola chiusa, dal punto di vista della fisica classica, voi potete avere o, aprendo la scatola, potete trovare o il gatto vivo o il gatto morto. Non c'è una via di mezzo. Invece, in meccanica quantistica, un gatto quantistico dentro una scatola può stare in una sovrapposizione, quello che si chiama una sovrapposizione, tra gatto vivo e gatto morto. Quindi quello che potete fare è semplicemente andare a prevedere non la certezza ma la probabilità, quindi un numero compreso tra 0 e 100% di trovare, una volta che aprite la scatola, il gatto vivo oppure il gatto morto. Quindi, per quanto matematicamente complicata alla descrizione della meccanica quantistica, è però molto vicino alla dimensione psicologica e esistenziale umana. Questa attenzione, appunto, tra reale e possibile, tra quello che è reale e quello che invece è possibile, è molto vicino a una dimensione, diciamo, umana. Prendete, per esempio, la domanda che fate una persona come stai, ecco, la risposta non è necessariamente sto bene o sto male, ma una sovrapposizione di stati tra lo star bene e lo stare male. Seconda teoria fisica, relatività ristretta. La relatività ristretta, formulata appunto da Einstein nel 1905, descrive situazioni in cui le velocità sono molto grandi, sono vicine alla velocità della luce, particolarmente importante per quanto riguarda la fisica delle particele elementari dell'astrofisica. Qual è la caratteristica di questo tipo di teoria? In questa teoria lo spazio e tempo hanno un carattere relativo, non assoluto. Quindi il metro e gli orologi non misurano spazio e tempo che sono uguali per tutti, ma dipendono in particolare dagli osservatori che lo misurano, in particolare dalla velocità relativa tra questi. anche qui il livello popolare è la cosa che per descrivere questa relatività di spazio e tempo che si usa è il paradosso dei gemelli. Quindi se voi avete due gemelli, uno fermo, l'altro invece sopra un'astronave che va a velocità vicina alla velocità della luce, quando poi questi gemelli si rincontrano, quello che ha viaggiato nell'astronave è più giovane rispetto al primo che è rimasto ferro. L'attività ristretta sta alla base degli sviluppi in tanti settori del mondo moderno, quali per esempio la parte di aerospazio e astrofisica. Infine, relatività generale, la terza teoria, descrive situazioni in cui la forza gravitazionale è molto intensa, quindi domina sulle altre forze. Tipicamente abbiamo questa situazione quando abbiamo a che fare con stelle, buchi neri oppure la cosmologia. Allora, la peculiarità di questa teoria è che appunto lo spazio e tempo sono intimamente legati con la materia, quindi lo spazio e il tempo non sono più assoluti, non sono più un palcoscenico immutabile, ma sono invece determinati dalla materia stessa. Usando le parole di John Wheeler, la materia dice allo spazio e tempo come curvarsi, quindi come modificarsi, come vedete in questa immagine, quindi dove appunto il sole curva lo spazio e tempo, quindi lo spazio e tempo non è più un piano, un piano, un semplice piano, ma è curvato dalla presenza della forza gravitazionale del sole, mentre invece lo spazio e tempo dice alla materia come muoversi, quindi una volta che poi questo spazio e tempo è curvato, la luce si muove in questo tessuto spazio-temporale in un modo diverso rispetto a come si muoverebbe in uno spazio piatto, quindi se questa superficie fosse un piano. Ecco, quindi questo era brevemente la crisi della fisica classica e il suo risultato, quindi la formulazione di tre diverse teorie, la meccanica quantistica, la relatività ristretta e la relatività generale. Ecco, adesso vediamo come questa crisi della fisica si è legata ai cambiamenti epocali di allora. Ecco, possiamo dire che la crisi della fisica classica anticipa e poi accompagna la transizione epocale del Novecento, quello che poi viene chiamato dagli storici il secolo breve, con le sue tre guerre mondiali e gli sviluppi tecnologici mozzafiato. Parlo di tre guerre mondiali, due calde e una fredda, l'ultima è stata fredda. Ecco, la cosa importante è che questo sviluppo, questa transizione nel secolo breve, è uno sviluppo assolutamente immaginabile se si guarda al clima che si respirava all'inizio del Novecento, quello che venne appunto chiamato la Belle Epoque. Il clima era appunto dominato da questa generale idea positivista di progresso e di progresso continuo e assoluto, infinito, di questa umanità proiettata appunto verso un progresso senza fine. quindi nonostante appunto la presenza di alcune voci dissonanti, per esempio Nietzsche o se volete la nascita della psicoanalisi, soltanto guardando la fisica, quello che stava succedendo nella fisica, si poteva capire che stava per avvenire un cambiamento epocale. Quindi solo la fisica rappresentava la spia, stava avvertendo questo cambiamento epocale. Poi la crisi della fisica accompagna nei primi 20-30 anni del Novecento il travaglio umano, per esempio le situazioni culturali di quel tempo, che appunto conosciamo benissimo, guerre mondiali, disgregazioni di imperi, Repubblica di Weimar, l'emergere del fascismo e del nazismo, nuove correnti artistiche e così via. Quindi da questo punto di vista c'è un legame molto intimo tra questo clima diciamo culturale, tra quello che avviene nella fisica e quello che poi avviene in generale a livello diciamo della società occidentale. Ecco, nella crisi della fisica possiamo vedere tutte quelle caratteristiche generali che abbiamo visto precedentemente nelle crisi. In primo luogo la metastabilità, la crisi della fisica classica viene generata da uno sviluppo e da un'evoluzione concettuale continua della fisica classica. Non è che nasce così dall'oggi al domani, invece legato a questo continuo evolversi della stessa fisica classica su una scala molto lunga. Gli esperimenti che tipicamente vengono chiamati esperimenti che danno vita alla crisi, in realtà fungono solo dal detonatore della crisi. Questi esempi sono appunto tanti, per brevità vi menziono soltanto l'esperimento di Manchester-Morley, da cui veniva fuori che la velocità della luce era costante per tutti i sistemi del riferimento, che portò appunto Einstein a formulare la relatività ristretta. Però questi esperimenti devono essere pensati come i casus belli, come i detonatori che fanno in qualche modo, che danno vita alla crisi e che però di per sé è generata dalla stessa evoluzione lenta della fisica classica. La nascita della nuova fisica inoltre ha richiesto un drastico cambiamento nel linguaggio stesso della fisica. Questa è di nuovo una caratteristica delle crisi dei sistemi complessi. Cioè bisogna usare nuova tecnologia, nuovi parametri per descrivere appunto la nuova realtà. Qui la cosa un tantino più tecnica, vi menziono il dualismo onda-particella, cioè il fatto che in meccanica quantistica le particelle si comportano come onde, o il nuovo concetto di spazio e di spazio-tempo, quindi non spazio e tempo slegati l'uno dall'altro, come normalmente uno aveva nella fisica classica, ma il continuum spazio-temporale della relatività ristretta e della relatività generale. Di nuovo globalità, il processo va pensato come un processo globale, cioè il cambiamento ha investito una moltitudine di livelli della conoscenza e dell'espressione artistica, quindi abbiamo detto che tutta la società occidentale è stata percorsa da questi cambiamenti, menzioniamo la psicoanalisi, il surrealismo a livello di arte e così via. Inoltre, la formulazione del nuovo paradigma scientifico, quindi il passaggio dal vecchio al nuovo, quindi l'uscita della crisi, è stato un cammino non lineare, ma estremamente tortuoso, tipico appunto dei sistemi complessi. Ecco, brevemente, come inciso, voglio dirvi qualcosa delle genesi dei nuovi paradigmi scientifici dal punto di vista, diciamo, generale. Quando si cambia un paradigma, ovviamente la scienza ha a che fare con l'impossibile, con qualcosa che non è prevedibile nel vecchio paradigma. questa dinamica è sempre presente quando abbiamo a che fare con dei cambiamenti di paradigma. Quindi quello che fa la scienza per affrontare l'impossibile, cioè qualcosa che secondo la vecchia concezione del mondo non è, non può esistere, e trasformarlo prima nel paradossale, l'abbiamo visto appunto, i paradossi appunto della meccanica quantistica e della relatività ristretta, il paradosso dei gemelli e quello è il gatto di Schrödinger. Poi, una volta che questo impossibile è diventato paradosso, diventa poi reale nella, una volta che si è affermato il nuovo paradigma scientifico, la nuova visione del mondo. Per questo, diciamo, è un modo di procedere della scienza che trovate anche in tante forme letterarie e in arte figurativa. pensate un po' alla letteratura di Kafka e di Borges o di Escher, oppure a livello diciamo di arte figurativa di Escher, che appunto vedete qui in questo dipinto. Un esempio principe di questo tipo di comportamento è la meccanica quantistica, dove appunto l'impossibile, il paradossale e il reale giocano un ruolo veramente, sono sempre intimamente legati anche a livello interpretativo della meccanica quantistica. Tenete presente che questo fenomeno di destrutturazione e poi ristrutturazione del mondo reale, quindi il passaggio da un qualcosa che è impossibile secondo il vecchio paradigma, qualcosa che diventa reale rispetto al nuovo paradigma, è il motore non soltanto dell'innovazione nella scienza, ma dell'innovazione in tutti i settori. Anche se poi questo, ovviamente come notavo precedentemente, può avvenire in modo, con dei dettagli diversi. Ecco, vediamo adesso in che senso la crisi della fisica classica e la formulazione delle nuove teorie è stata un'opportunità, quindi come l'uscita dalla crisi della fisica classica è diventata una grande opportunità. quindi la nuova visione del mondo che è stata generata dalla crisi della fisica classica e le sue applicazioni tecnologiche scandiscono tutta la storia e lo sviluppo del Novecento, sia in positivo che in negativo. la guerra fredda e gli armamenti nucleari, in particolare tutta la parte di armamenti nucleari, su questa parte qui ha avuto un grosso impatto, tutta la ricerca sulla fisica nucleare e la fisica delle particelle elementari. la costruzione di grandi acceleratori e ricerca sulle particelle elementari, do menzionare qui appunto il grande acceleratore al CERN di Ginevra, la ricerca sulle particelle elementari al CERN di Ginevra, l'esplorazione spaziale e l'astrofisica, che qui appunto ha un grandissimo impatto delle nuove teorie scientifiche, la relatività rispetto alla relatività generale. La terza rivoluzione industriale, quindi la rivoluzione industriale basata sulle tecnologie dell'informazione, anche qui importantissimo il contributo dei semiconduttori, i semiconduttori che si basano appunto, la cui comprensione è basata sulle meccaniche quantistiche. Sviluppo di nuove forme sociali, l'organizzazione del lavoro, per esempio i social media, non tutti sanno, per esempio, che all'internet, il web è stato inventato al CERN, al CERN di Ginevra, come protocollo di scambio di informazione tra la comunità scientifica che lavorava sulle particelle elementari. Ecco, poniamoci adesso la domanda seguente. Cosa ha reso possibile la nascita e l'affermazione del nuovo paradigma scientifico? Quindi, la crisi della fisica classica ha avuto un esito positivo, ovviamente per positivo intendo il fatto che ha portato alla creazione di una nuova struttura, di nuovo equilibrio, di una nuova struttura, di un nuovo paradigma per la comprensione del mondo. Ovviamente non per tutte le crisi, per molte crisi non è così, non sempre si riesce a ritrovare un equilibrio e un nuovo modo operandi. E quindi ci chiediamo quali sono gli elementi critici che hanno determinato questo risultato. Ovviamente questi elementi sono tipici della conoscenza scientifica, e questo qui ve li elenco. L'approccio razionale, critico e osservativo tipico del metodo scientifico, quindi approccio che parte dall'osservazione del reale, della realtà, cerca di formulare dei modelli razionali di quello che sta succedendo, ponendole poi anche in un rapporto critico tra di loro quando ci sono opzioni alternative. La creatività e l'innovazione, importantissimo che in questo processo sia caratterizzato sia creativo che innovativo. La totale assenza di dogmatismo, quindi non esiste nessun dogma, tutto può essere messo in discussione, tutto può essere questionato. L'esistenza di procedure e di indagine codificate e ripetibili, cioè le procedure che noi usiamo per indagare e per rispondere alle nostre domande devono essere ben codificate e ripetibili. Ricerca di risposte razionali solide e testabili alle nostre domande, quindi un approccio non irrazionale, passeggero, estemporaneo, ma razionale, solido e testabile. Infine, l'esistenza di una comunità scientifica che da un lato è ben strutturata, nel senso che quindi consente di dare risposte solide, ma dall'altro punto di vista è anche inclusiva e aperta all'esistenza di tanti punti di vista. Chiaramente le cose che vi ho elencato sono tipiche delle comunità scientifiche, sono pertinenti a problemi scientifici. Chiaramente sarebbe estremamente ingenuo pensare di esportare meccanicamente queste procedure dinamiche ad altri ambiti, per esempio un ambito politico o un ambito sociale in genere. Bisogna però tenere presente che la scienza resta comunque un prodotto sociale, quindi è fatta da umani e ha tantissimi punti di contatto con altre dinamiche sociali e umani. quindi non è che gli scienziati vivono in un mondo, in un universo parallela, vivono ovviamente nel mondo reale, quindi sono soggetti alle dinamiche sociali e usuali. ecco, quindi questo per quanto riguarda la crisi della fisica classica e la loro descrizione in termini generali di come funzionano le crisi dei sistemi. Nell'ultima parte di questo seminario invece andremo a dare uno sguardo sulla situazione attuale, sul futuro e sui possibili scenari futuri con particolare riferimento appunto alla crisi Covid e al riscaldamento globale. Prima di tutto andiamo a vedere quali sono le caratteristiche dell'epoca in cui viviamo. Dalla fine della guerra fredda, quindi degli ultimi 30 anni, ci sono state delle trasformazioni radicali del nostro modo di vivere, di produrre e di interagire. La prima grossa trasformazione è stata la globalizzazione e l'interdipendenza. Viviamo ormai in un mondo globale totalmente interdipendente in cui quello che avviene da una parte ha in contempi abbastanza veloce influsso su quello che avviene da un'altra parte nel mondo. Tra i cambiamenti radicali possiamo menzionare cambiamenti radicali nella modalità di produzione di beni e consumo, di macchine, cambiamenti nella modalità di creazione e trasmissione della conoscenza, quindi anche nella stessa produzione di scientifica e di trasmissione delle conoscenze nelle scuole e nelle università. nuove forme di socialità, sono sviluppate molte forme di socialità, in particolare legate agli sviluppi della terza rivoluzione industriale, quindi alla rivoluzione dell'informatica. nuove forme e rapporti di lavoro, abbiamo possibilità di raccogliere e gestire e purtroppo anche manipolare, è una quantità immensa di informazioni, quindi questa possibilità non è mai stata presente, non è stata neanche minimamente immaginabile nel passato, la potenza che abbiamo nel gestire e raccogliere informazioni. probabilmente a questo però abbiamo tutta una serie di aspetti negativi, in particolare abbiamo una grossa crisi di legittimazione, crisi di legittimazione non soltanto della governance politica, ma anche a livelli intermedi della comunità scientifica, di tanti anelli del tessuto sociale. Abbiamo poi fenomeni di radicalizzazione, di fondamentalismo, soprattutto legati a sviluppi nelle società non occidentali. quindi globalmente il sistema è un sistema molto articolato, estremamente complesso, disordinato a tutti i livelli, quindi sia a livello geopolitico, per quanto riguarda le relazioni tra le varie potenze geopolitiche, a livello nazionale, a livello sociale, economico. Questo chiaramente rende il sistema molto vulnerabile e potenzialmente instabile. Quindi tutta questa complessità su tutti i vari livelli rende tutto il sistema vulnerabile e molto instabile. Tra la metà questa però abbiamo capacità scientifiche e tecnologiche veramente grandi, veramente molto importanti, che ci aiutano a risolvere in modo efficace e efficiente tutta una serie di problemi. Tra l'altro, appunto, questa estrema complessità e struttura, sia della struttura sia dei modi di operare della comunità scientifica, e quell'enorme potenzialità che abbiamo a risolvere dei problemi, potrebbe avere come conseguenza, l'uso del condizionale perché ovviamente non è una cosa che possiamo dire con certezza e prevedere, potrebbe avere come risultato l'impossibilità di una nuova rivoluzione scientifica simile a quella della fisica classica. Questo perché? Questo perché la scienza oggi sembra avere, molto più che in passato, una buonissima, un'ottima capacità di metabolizzare, assorbire conflitti, contraddizioni e situazioni esplosive. Cioè, mentre appunto, come abbiamo visto, una perturbazione come un esperimento che mette in crisi la fisica classica, poteva succedere, poteva avere luogo nel passato, oggi è molto, molto più complicato avere a che fare con un meccanismo del genere. Questo perché appunto siamo diventati molto, molto bravi nel farci tornare i conti. Un esempio di questa cosa qua, la possiamo vedere nella fisica di oggi, nella cosmologia, per quanto riguarda la materia oscura e l'energia oscura. I nostri modelli cosmologici, se ci mettiamo, se consideriamo solo la materia visibile, cioè quella che vediamo con i nostri telescopi, non funziona, non funziona per niente. Per farci tornare i conti, dobbiamo assumere che in un universo ci siano delle forme esotiche di materia, la materia oscura e l'energia oscura, che tra l'altro, appunto, compongono il 95% della materia presente nell'universo. Quindi, come vedete, in questo modo uno riesce a farsi, a tenere insieme il sistema, quindi non provocare nessuna crisi del sistema, a costruire un modello cosmologico che funziona, semplicemente, appunto, andando a usare modelli sempre più complicati, sempre più raffinati. In realtà questa capacità di metabolizzare problemi, di macinare, appunto, difficoltà, la si ritrova anche in ambiti scientifici, in non scientifici. Ed è probabilmente spiegabile in termini della dinamica di questi sistemi complessi, cioè dal fatto che abbiamo a che fare con un numero molto grande di possibilità, di possibili configurazioni di equilibrio. Ecco, passiamo alla parte finale del seminario, c'è la discussione di due esempi molto interessanti e molto attuali, che sono l'epidemia di Covid e i cambiamenti climatici, sempre avendo come riferimento, appunto, la descrizione delle crisi e l'andamento delle crisi. Chiaramente la domanda che tutti ci poniamo è quale sarà l'evoluzione di queste due crisi, dove andremo a finire, ne usciremo, appunto, in modo buono, cioè queste crisi avranno una caratteristica di innovazione, di un nuovo equilibrio, di creazione di nuovo equilibrio, oppure invece avranno un effetto devastante sul nostro mondo. Iniziamo dall'epidemia di Covid. Diciamo subito che il Covid non è la prima grossa epidemia vissuta dall'umanità, ma ne abbiamo viste tantissime, è però la prima di un mondo globalizzato. La dimensione di questa epidemia la conosciamo abbastanza bene, 300 milioni di casi, 6 milioni di morti, la variante Omicron, che è in assoluto l'epidemia più diffusa da sempre nella storia dell'umanità. Questa epidemia ha messo in chiave il carattere globale di tanti problemi del nostro tempo e la veletta dei tentativi egoistici dei sovranismi vari. Quindi il fatto che tantissimi problemi del nostro tempo hanno un carattere globale e possono essere risolti soltanto con un'ottica di questo tipo. La crisi di Covid, l'epidemia di Covid, ha fatto da acceleratore e detonatore a processi già in atto, che avevamo già visto in atto nel nostro modo di vivere. Pensate per esempio allo smart working o a nuove forme di socialità. Se da un lato inoltre ha reso evidente la potenza del nostro sapere scientifico e tecnologico, pensate alla rapidità con cui sono stati sviluppati i vaccini, è una cosa inimmaginabile questa velocità. Dall'altro punto di vista ha messo a nudo la portata alla diffusione di sacche di razionalità anticientifiche nelle nostre società. Pensate ai movimenti Novax, la diffusione di questi movimenti. domanda che ci poniamo è come si esce da questa crisi, cioè come sarà il mondo una volta che saremo usciti dall'epidemia di Covid. ovviamente come tutti i sistemi complessi una serie di possibilità rimangono aperte. Quindi abbiamo visto che i sistemi complessi hanno questa caratteristica di avere a disposizione un numero molto grande di possibili configurazioni di equilibrio in cui possono esistere. questa caratteristica, quindi il fatto di avere tantissime possibili uscite, è evidente anche nell'estrema diversità delle strategie adottate dai vari paesi per fronteggiare la crisi. Iniziate a vedere tutto il panorama delle strategie usate trovate veramente tantissime, tutto uno spettro di possibilità. Partiamo dall'isolamento totale scelto dai regimi autoritari orientali, in particolare dalla Cina, quindi isolamento totale della nazione per evitare i contagi. Infine dall'altro lato dello spettro trovate invece la strategia indiana, quella di lasciar correre l'epidemia, di fare in modo che, non dico che si forme un'unità di greggio perché pare che sia, anzi è sicuramente impossibile farlo con l'epidemia di Covid, ma in qualche modo di fare in modo che la popolazione venga in contatto con l'epidemia in modo da sviluppare le difese. In mezzo ho un listo di misure per il controllo dell'epidemia basato su vaccinazioni, lockdown, tracing a secondo delle situazioni, in modo da spalmare l'impatto dell'epidemia sul sistema sanitario, da spalmarlo su tempi lunghi in modo da reggere l'urto della cosa che è la strategia scelta in particolare dagli europei e dagli Stati Uniti. È molto probabile che l'uscita dalla crisi Covid probabilmente sia quella in cui l'umanità, in cui noi umani e il virus impariamo a convivere l'uno con l'altro. Già lo sviluppo dell'avviante Omicron sembra andare in questa direzione, nella direzione in cui il virus e l'uomo convivano. Del resto questo è anche tipicamente il modo in cui le epidemie poi evolvono. È però molto probabile che questa crisi porti a modifiche o in qualche caso a consolidazioni del nostro modo di vita per quanto riguarda la nostra mobilità, la socialità, le forme della socialità, le organizzazioni del lavoro, l'istruzione, gli equilibri geopolitici. Quindi è molto probabile che poi, una volta che la crisi è finita, troveremo il nostro mondo cambiato, troveremo una situazione di nuovo equilibrio diverso da quello che abbiamo visto prima dell'epidemia. Cambiamenti climatici, quindi passiamo ai cambiamenti climatici. Anche qui abbiamo a che fare con la relazione del nostro come esseri umani con la natura, così come nel caso dell'epidemia Covid in questione è proprio la relazione, come il rapportarsi dell'uomo con la natura intesa come virus nel caso dell'epidemia oppure intesa come ambiente nel caso dei cambiamenti climatici. Il modello di sviluppo occidentale, che è diventato dominante in gran parte del pianeta, è basato sull'uso dei combustibili fossili per produrre energia. Come ben sapete, questo ha portato all'innalzamento dei libelli di unidride carbonica in atmosfera, conseguente effetto serra e innalzamento della temperatura media del globo di circa 1,5 gradi. Come conseguenza, abbiamo i cambiamenti climatici che in un futuro non troppo remoto potrebbero mettere in forze l'esistenza stessa della specie umana sulla Terra. Da notare che anche nella peggiore delle ipotesi non è che in discussione l'esistenza della vita, proprio perché il nostro pianeta ne ha vissuto di cotte e di crudi, ha vissuto situazioni di aumenti di temperature di unidride carbonica maggiori di 1,5 o di 2,3 gradi, anche 10 gradi, ma quello che è in discussione sono le condizioni per l'esistenza della specie umana. Quindi stiamo in qualche modo mettendo in pericolo il nostro modo di vita come esseri umani, non della vita in generale. Quindi la crisi climatica che si sta delineando ha tutte le caratteristiche di una crisi globale di un sistema proprio complesso, quindi ritroviamo un po' tutte le caratteristiche di queste crisi qua. Crescita lenta dei livelli di unidride carbonica e temperatura, con effetti però non lineari a livello climatico, quindi eventi estremi, distribuzione spaziale e stagionale di questi eventi non uniformi, eccetera, eccetera. Inoltre abbiamo un coinvolgimento globale, tutto il pianeta è coinvolto nel cambiamento in un modo o nell'altro, chiaramente poi a seconda delle latitudini questi cambiamenti hanno un impatto nel senso diverso, però tutto il globo è coinvolto in questo cambiamento. Abbiamo un'esistenza di un numero molto grande di possibili scenari futuri di nuovi equilibri, cioè non è molto chiaro quale di questi possibili scenari futuri potrà aver luogo, proprio come dicevamo per i sistemi disordinati e complessi. Abbiamo quindi difficoltà di fare previsioni sia su scale temporali piccole, cioè sulla meteorologia, per vedere appunto quello che succederà nei prossimi sette giorni, ma soprattutto su scale temporali grandi, cioè su come sarà il clima per esempio tra 30, 40 e 50 anni, il clima sulla Terra. Ecco, volendo anche qui andare a vedere due casi limite, due scenari estremi, ovviamente poi sulle due possibilità ci sono tante modulazioni, tante possibilità intermedie, quindi a un'estremità abbiamo l'umanità che fa la fine dei Rappanui nell'isola di Pasqua, conoscete appunto il caso dell'isola di Pasqua, cambiamento ambientale, che è stato generato dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, stoccia nella distruzione completa di una civiltà. Quindi questo diciamo è lo scenario più catastrofico, più terribile che possiamo immaginare della crisi climatica. All'altro estremo abbiamo invece l'uscita, diciamo, dalla crisi che ci piacerebbe di più, che tutti ci auguriamo, no? E cioè che la complessità della nostra civiltà, in congiunzione con le nostre capacità tecnico-scientifiche, consente di creare un nuovo equilibrio, basato sul modello alternativo di sviluppo ovviamente, in particolare basato su energie rinnovabili, quindi non su combustibili fossili, quindi uno sviluppo economico sostenibile, quindi non rapina delle risorse naturali, ma basato sul riciclo, sulla riutilizzazione non soltanto dell'energia, ma anche delle materie prime. su una distribuzione equa e solidale tra delle risorse, tra le varie parti dell'umanità, in particolare tra il nord e il sud del mondo. Ecco, a questo punto possiamo chiederci cosa possiamo fare per cercare di far sì che si avvenga lo scenario virtuoso e non quello dei Rappanoi. Dobbiamo imparare dal passato per immaginare e costruire un futuro diverso, appunto un futuro in cui la nostra specie non faccia la fine dell'isola di Pasqua. Ecco, possiamo imparare per esempio dalla rivoluzione scientifica, da come si è evoluta la rivoluzione scientifica del secolo scorso, quindi usare un approccio razionale critico per la risoluzione dei problemi, quindi non affidarsi a stregoni quando ci sono dei problemi, ma usare un approccio razionale critico ai problemi, non mettere nessun tipo di dogmatismo, che questo chiaramente è il figlio legato all'approccio, diciamo, razionale ai problemi, usare creatività e innovazione, appunto nell'approccio a tutte le problematiche, uso di procedure codificate e ripetibili. Come vedete chiaramente qui c'è un bias mio nei confronti appunto di uso di metodologie e di approcci di tipo scientifico, però penso che in questo caso sia veramente utile, se non addirittura forse necessario approcciarsi a questo tipo di problemi appunto con la mentalità tipicamente scientifica. Ricerca di soluzioni globali, appunto come abbiamo visto le crisi hanno una caratterizzazione globale e la loro risoluzione deve per forza avere una caratterizzazione globale. valorizzazione di realtà ed approcci locali, che questo è molto importante, incentivazione di comunità ben strutturate, che siano quindi ben strutturate proprio perché per risolvere i problemi c'è bisogno di strutturazione, ma che siano anche inclusive, aperte e tolleranti. Io penso che alla fine fine l'approccio tollerante e inclusivo sia comunque a lungo termine nell'approccio che ha più possibilità di successo rispetto ad approcci autoritari e non inclusivi. L'approccio solidale è responsabile anche dal punto di vista sociale. ecco quindi diciamo in generale l'epidemia di covid e di cambiamenti climatici indicano molto chiaramente i limiti della nostra visione antropocentrica del mondo. abbiamo realizzato in modo pesante come effettivamente la natura, il nostro, anche dal punto di vista scientifico e tecnologico, l'impatto sulla natura se non controllato diciamo da un punto di vista non globale ecco, può avere dei, anzi ha sicuramente dei grossi limiti. Perché infatti abbiamo stravolto il mondo, inteso appunto come equilibrio diciamo del pianeta, e abbiamo in questo momento grosse difficoltà ad adattarci a questa nuova situazione. è chiaro che questo indica la necessità di un nuovo modo di rapportarci con la natura, appunto di un modo diciamo più sostenibile, più rispettoso, non solo di una nuova comunione ma anche di un nuovo dialogo, nel senso che l'uomo che fa parte della sua stessa e della natura deve imparare a dialogare in modo diverso da come l'ha fatto negli ultimi 200 anni con la natura. Ecco, dovrei aver finito, vi ringrazio tanto per l'attenzione e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.